Ciao, creatura. Io sono Ecate, splendente, e benvenuta o bentornata nel regno di Cosai. E S M A Creatura, come avrei letto dal titolo, questa sera ti racconto un po' le serie che ho visto. Non ne ho viste tante, ma anche se poche, perché non ho più tanto, 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 tanto tempo per guardare serie. E, però, le poche che ho visto mi sono piaciute davvero moltissimo. Allora, la prima è stata è What We Do In The Shadows What, 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 What Molto insommarare questo fa What We Do In The Shadows che è tratta da un film che appunto si chiama What We Do In The Shadows che poi in Italia hanno ovviamente tradotto come fanno loro, cioè male, che in Italia si chiama vita da vampiro. Ma perché devi cambiare il titolo? Ma perché devi cambiare il titolo? E' bello, no? Ma dico anche in italiano Quello che facciamo nell'oscurità, nell'ombra, no? Quello che facciamo nell'ombra E' bello, no? Un bel titolo accantivante No? Vita da vampiro Se non pare un film per bambini Vabbè Sabrina, vita da strega Cioè E, vabbè E Il film io l'avevo visto appena era uscito, cioè un sacco di tempo fa E il film mi era piaciuto tantissimo E' uno di quei film che di solito non piace a nessuno E a me piace di solito, ecco E ce ne sono tanti, così Quelli di quei film che magari la gente manco conosce Ecco Ed è un film appunto sui vampiri Fatto, eh Finto documentario E' un po' come The Office La serie Si è presente Dove In questo film si finge Di Fingono di La storia appunto Che stanno girando Un documentario su dei veri vampiri E quindi Eh Questi Cameraman Riprendono La vita Di questi vampiri Questi vampiri Ti raccontano Semplicemente Quello che fanno Durante La notte Perché durante Il giorno dormono Giustamente Vampiri Che non possono Uscire di giorno Perché altrimenti A contatto Con il sole muoiono Ecco E C'è solo di esistere Diventano Genere Quindi Il film ha Diciamo Diversi attori E diversi protagonisti La serie E' tratta appunto Da quel film Ha diversi attori Diversi protagonisti Non c'è il mio preferito Però Ne ho già trovato Ce l'ho già Diciamo Sostituito Con un altro Personaggio Preferito Anche Se in realtà Poi Ti affezioni Un po' Tutti i personaggi Perché Sono tutti belli E fanno ridere Ed è Diciamo Come genere Siccome Si parla di vampiri E' comunque Horror Perché Ci sono argomenti Come tipo Succhiare il sangue E uccidere gli umani Che sono Horror Discorsi Non per bambini Perché si parla di Sesso Però In chiave comica Perché appunto Loro sono Un po' stupidi E fanno ridere E Hanno anche un lato Diciamo umano Non sono così Seriosi Come Magari Si può Pensare Di un vampiro Che magari Pensa A vivere Che la sua vita Cacciando e basta La sua sopravvivenza E cacciare Quindi Deve essere tenebroso E Uccidere gli umani Lì insomma Hanno anche tutti i jobbi E sono Delle passioni Delle relazioni E Tante tante cose Che le avvicinano Gli esseri umani E E hanno anche un passato Perché Essendo immortali Hanno vissuto Tantissime Tantissime Vite Pi precedenti Diciamo Anche se non sono mai morti Però Sono andati avanti Con Lo sviluppo Della società E Hanno avuto Diciamo Delle vite Passate In base alla Società In cui si trovavano In quel periodo In quell'epoca storica E Quindi C'erano Vampiri Più Diciamo Giovani E alcuni Più vecchi E E' veramente Molto bello Divertente Anche la serie Che da Quel che so Ha fatto Molto 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 Più successo La serie Del film Anche se in realtà Anche il film Era piaciuto Veramente tanto La serie Dovrebbero essere Cinque stagioni E le ho viste tutte Quindi anche per quello Diciamo che Sì Non ho visto tante serie Però Cinque stagioni Insomma Un po' lunghette Ecco Anche perché Le ho guardate solo Nei weekend Quindi Per quello Ci ho messo anche tanto E E quindi Niente Mi è piaciuta molto Quella serie E Sì Perché ha questa Un po' come Mi sento io Una comicità In chiave gotica E Che a tratti Erano un po' Pugiosi A tratti erano un po' Così Inquietanti E Quindi Veramente Se ti piace Questo genere Te la consiglio E Per come È stata Diciamo Sviluppata La serie Che Avrebbero Avrebbero Per quanto mi riguarda Avrebbero potuto Proseguire All'infinito E non Fermarsi mai Con La vicenda La storia E tutto Diciamo che È sempre in chiave E The office Cioè Ci sono sempre Tipo Documentario Ci sono questi Giornalisti Non so cosa siano Cameraman Che girano Per questa casa Abitata da Diversi Vampiri Ognuno con La propria personalità E Tra l'altro In questa Serie Che nel film Non c'è C'è un personaggio Che è In realtà Umano Ma è Un vampiro Energetico E Praticamente È uno di quelle persone Noiose Che ti trovi in ufficio Che ti attaccano le pezze Che ti sono a parlarti Di cose Di cui Non te ne frega niente Però Per educazione Non lo mandi a quel paese Quindi Stai lì Ad ascoltare Ti annoi Ti Ti rubano le energie Quello è un personaggio Che all'inizio Mi stava proprio Super 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 Antipatico E Invece Poi Più Lo conoscevo Più Succedevano cose E poi Adesso mi sto simpatico Mi piace Come personaggio Ma Inizialmente Lo trovo odioso Perché Conosco Delle persone Che sono Letteralmente Così E Avendo lavorato Anche in ufficio Proprio Ne ho avuto a che fare Ed è Veramente vero Di Sembra proprio Che ti succhino Le Le energie Proprio Proprio Sono pesanti Poi con lui Poi Ne sono successe Veramente Di ogni colore C'è veramente Da ridere E E faria appunto Che lui che sia umano Però È cosciente Di essere Un vampiro energetico E vive Insieme A dei veri vampiri Poi Poi Dopo C'è una coppia Diciamo Marito E moglie Coppia Di vampiri E E Poi c'è il mio preferito Che è Nandor E Che ha un famiglio Che è Diciamo Che è Un Un Umano Che Serve Il Suo padrone vampiro Con La promessa Che Il padrone vampiro Un giorno Lo Renderà Un vampiro Quindi Cioè Solo che vorrei raccontarti Delle cose Che mi sono Piaciute molto Di questa serie Però ho paura Di fare dei Spoil Di fare spoiler Quindi Niente Non dirò Però Ti dico solo Che In un episodio Per Chi ha visto Ovviamente Prima il film E ha visto Anche Film Sui vampiri E Ci sono Gli attori Che hanno fatto Il film What We do In the shadows E E li ritrovi Lì E poi trovi anche Dei attori Che hanno fatto Film Non spoiler Sui vampiri E interpretano Interpretano Proprio Se stessi Cioè Bellissima Sta cosa Bellissimo 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 Questa cosa Ehm Non so se sono Gli easter egg Si può considerare Un easter egg Questo Però Ehm Questa cosa Appena le ho viste Oddio Loro sono Cioè Wow Mi è piaciuto tanto L'inserimento Di questa idea All'interno Della serie E Anche perché All'inizio Ho guardato La serie Con occhi diversi Cioè Guardata un po' Perché Non hanno usato Gli stessi attori Del film Quindi la guardo Un po' così Dopo invece Da affezioni E dici Vabbè Sono vampiri diversi Però sono comunque Simpatici Belli E E E quindi Dopo Vedere anche Gli attori Del film Insieme Bellissimo Veramente A me è piaciuta Tanto E sarei andata All'infinito Guardare puntate Spuntate Anche Se la storia Comunque Si ripeteva Ma con quella chiave Veramente Si poteva andare avanti All'infinito Diciamo che Secondo me L'hanno voluto Un po' finire così Per finirla Non lo so Però Volendo Si potrebbe Proseguire Fino Altre Nove stagioni Per quanto Mi riguarda Perché mi prendo qualcosa Con cui giocare Ovvero questo Che è il mio preferito O l'altro Pure questo Che Questo qua è da un po' Che non usiamo E basta Perché Non voglio Spoglierare Altre cose Su questa serie Mi sa che Ho già detto Anche troppo E Poi Altra serie E Vabbè Lo so che Non potrei Guardare Film Horror O serie horror Perché Il mio psicologo Ha detto Di Non guardarle Però Infatti E E E Uscita Una stagione Di American Horror Story E Non le ho guardate Perché quelle sono Effettivamente Disturbanti Horror Eccetera Eccetera E Quindi Quelle non le ho guardate Però Ho trovato Una serie Che è Addetta A loro Horror Di genere Ma in realtà Non fa né paura Né disturbante Secondo il mio punto di vista Ovviamente E Non mi ha agitato Eccetera Eccetera E E E E quindi E E Anche perché Prima Guardavo Le serie horror In modo Cioè Con altri occhi Non so come spiegarlo Adesso mi sono Diciamo anche cambiato In realtà Personale vedo E Non so come spiegarlo Comunque E Adesso che ho il mio equilibrio Le Le vedo in un'altra Da un altro punto di vista Anche se Prediligo di più Le commedie Le cose leggere Così Avventura Però Però quella lì L'ho vista più come una Un genere avventura Più che horror Ehm Anche se forse si dai dalle scene Però boh Non lo so Non mi sto giustificando Ma effettivamente Non l'ho trovato Cioè Proprio parlo senza incrociare nulla Ehm Onestamente Non l'ho trovato Horror Non è horror Secondo me quello Non è genere horror E altro American Horror Story Ha veramente delle scene Disturbanti Ce n'è una che Non dimenticherò mai più Che non ti dirò È su Cult Ehm Quella veramente Disturbante Una serie veramente Che Disturba Che per Dove promettere Tipo Una certa età Non può guardarla E anche Chi soffre di depressione E altre cose Non dovrebbe guardarla Però vabbè Comunque O che ha dei traumi Per alcune cose Non dovrebbe guardarla Comunque Questa invece Boh Non lo so Non è stato così horror Alla fine Sì Sì anche What With me the shadow Non è stato Per niente horror Anche se C'era del sangue Così però A volte c'è anche Un livello D'azione Quindi Anzi forse Anche di più Un film d'azione Se ti guardi Se ti guardi Un film d'altra Comunque Comunque vabbè Successo appunto che Ehm Ho guardato Midnightmas Che sarebbe Tradotto Messa di mezzanotte Ehm Ehm E c'è un po' No spoiler Non vorrei spoilerare Troppo Dovrei leggere La trama Da qualche parte Vabbè Fa niente Cerco di non spoilerare Ehm Ehm L'argomento Principale È il cristianesimo Ok Mi piace Perché Nella casa del prete C'è la foto Di papà Francesco C'è proprio una foto Di papà Francesco C'è una cornice L'ho notato subito Ho detto c'è papà Francesco Ehm Diciamo che A grandi linee La storia Sto cercando Di non fare spoiler C'è questo prete Che È il prete Di una comunità Molto piccola Che vive Su un'isola È una comunità Molto credente Cristiani proprio Ehm Ehm Perché Perché fanno proprio C'è il prete Che non si può sposare E fanno le messe proprio Quali le nostre Le nostre In Italia Ehm Questi Cristiani Ehm Sono molto Fideli Molto Religiosi Ehm Questo prete Vecchio Ehm Durante un viaggio A Gerusalemme Incontra Un personaggio Che Gli salva la vita E Che Lui crede sia Un angelo Perché Essendo molto credente Ehm Leggendo la Bibbia Ehm Ehm Effettivamente Con la logica Di ciò che dice la Bibbia Potrebbe Ehm Essere benissimo Un angelo Perché Hanno dato comunque Una logica A tutta sta storia E mi è piaciuto Questa cosa qui Ehm Quindi decide di Di tornare Nella sua isola Ma quando torna Non è più Il vecchio Non è più L'uomo di prima Diciamo ecco E si porta dietro Questo angelo Che inizia a fare Dei Dei miracoli Poi quando vedi L'angelo Dici Bella È molto bello L'angelo A me è piaciuto Il compasso Lo presenta Alla comunità Durante una messa Di mezzanotte E quella scena è molto Molto bella A me è piaciuta Tanto Dato che Comunque È stato Il motivo Per il quale Ho deciso Di vedere Quella serie Perché Guardando TikTok Ho visto Quella scena Ho detto Cos'è sta cosa Da cercare Ed era questa serie Quindi Mi ero già spoilerato Tutto Praticamente Con quella Scena lì Però Mi ha ispirato Ho detto Ma sì Anche se è horror Mi sembra Molto bella E sono andata A vederla Infatti Da mio punto di vista Insomma Mi è piaciuta molto Soprattutto Perché c'è Questo angelo Che è un personaggio Molto bello Esteticamente Secondo me L'ha fatto molto bene E in più mi piace Anche Tutta questa Interpretazione Che c'è stata Che Leggendo la Bibbia Seguendo appunto Ciò che Hanno interpretato Da Da ciò che Insomma È il cristianesimo Questo Questo poteva Questo angelo Hanno Insomma Inserito bene La storia Insomma L'hanno Secondo me Costruita bene Da questo punto di vista Ecco Da un punto di vista Del prete E E anche che Insomma Ti fanno capire Insomma Tante cose Tante cose Dovrebbero Quella serie Dovrebbero Guardarla Anche Quei fanatici Religiosi Che Potrebbero Mettere in dubbio Qualcosina Delle loro Convizioni E Quindi Se io Se ti piace Il genere Horror Perché il genere Horror Anche se secondo me Si vede abbastanza Sangue Anche in questa serie E Se ti piace Se non hai problemi Io La vista del sangue E Ti piacciono Le serie Horror Però Leggere Perché Da un punto di vista Non era Horror E E Se ti piace Ci sono alcune scene Che sono Ce le avrete tolte Perché Sono di una Noia Mortale Una noia Mortale Poi ci sono Già La classica Fanatica Religiosa Che È più odiosa Proprio Le hanno fatti bene I personaggi Veramente E Complimenti All'attrice Riesci a farti odiare Tantissimo Complimenti Sarà quello il tuo intento Ottimo lavoro La classica Donna Tipo Gattara Santa Gatti In senso dispregiativo E Che Noia Che Punta il dito sugli altri Poi lei La peggio Schivezza Nell'universo Ecco Quella lì È proprio odiosa L'angelo È bellissimo Non si può dire niente Lui è Lui è ciò che è Poi c'è il prete Che è veramente La te è toppe La te è toppe E Alla fine realizza Tutto quello che è successo E dice Oh Ops Se ho sbagliato qualcosa Cioè A me fare troppo ridere Finale Comunque Non voglio spoilerartelo Quindi Inizialmente ti fanno venire qualche dubbietto Ecco Però dopo dici no Ho ragione io Ok Ok Ehm Bella Mi è piaciuta la storia Molto originale Secondo me Non avevo visto film Su quel tema Ecco Se ne esistono Ok Non l'ho visto Per me È stato originale Che mi è piaciuto Come hanno Ehm Contestualizzato ecco Tutta la vicenda In ambito religioso Ehm Non ho trovato Troppi buchi Nella trama Ecco Qualcosa si dici Ma In che senso Come Cioè Però Per il resto Sì Ha delle scene un po' troppo lenti Però Penso che Siano state fatte apposta Per rendere un po' Sai È un horror Quindi devono un po' Crearti delle Emozioni Dentro Insomma C'è Uno studio Anche lì Insomma Anche il fatto che Negli horror Tendono spesso A farti Presentarti Il protagonista E fartelo Fartici Rivedere O se non ti ci fanno rivedere Vanno comunque In modo di Fartici Affezionare In qualche maniera Così che Quando Gli succederanno Cose spiacevoli Tu Proverai Empatia E quindi Sarà horror Perché Ti ferai per lui Spererai Che ce la faccia Insomma Dopo dipende Anche da Quali emozioni Il regista O Chi Insomma Ha creato Che dietro Alla creazione Di quel film Vuole Farti provare In quel momento Guardando il film Quindi Ogni Musica Scena Inquadratura Qualsiasi cosa È stata creata Appunto Per Farti provare Quell'esatta Emozione Che sentino Quindi Io adesso Non so Bene L'intento Del Produttore Del regista Eccetera Di questa serie Però Se volevano Creare un senso Di pesantezza Di Oh mio Dio Basta Ma io comunque Ero tipo Chi se ne frega Vuoi vedere l'angelo Quindi Vabbè Io sono particolare Però Comunque Ci sono state le scene Veramente pesanti Perché erano lente Noiose Lente Dal mio punto di vista Ovviamente Però Quelle le avrebbe tolti Erano inutili Secondo me Per il resto È stata molto bella Poi La terza E ultima Serie Che Per adesso Ho visto È stata Fallout Che È tratta Da Un videogioco E Conoscevo Diciamo A grandi linee Il videogioco Non ci avevo mai giocato Non ci ho mai giocato Non ci ho mai giocato Però La serie Mi è piaciuta Veramente tanto E non Vedo l'ora Di vedere Come Proseguirà Perché Ho Fatto solo una stagione E ho visto quella E Lì c'è Praticamente C'è stata Una Un Bombardamento Nucleare E Ti mostrano 200 anni dopo Cosa è successo E Praticamente Ci sono quelli I fortunati Ricconi Che Sono riusciti A sopravvivere All'interno Dei vault Che sono come Dei bunker Dove hanno Avevano All'interno Cibo E Proviste In modo di avere L'acqua Potabile E tante cose Hanno Hanno creato Delle piccole comunità Sono sopravvissuti E Sono Quelli Che Non hanno Subito Mutazioni Genetiche Per colpa delle bombe nucleari E Hanno creato appunto Una civiltà Tra virgolette Perfetta Mettendo Mettendo nella testa Delle persone Il fatto che Loro Come scopo Nella vita Avevano quello di Ritornare Sulla terra Poi Ripopolarla Dall'inizio Non sapendo Poi In realtà Che cosa c'era Sulla terra Dopo Le esplosioni Delle bombe Però Insomma Ti fanno capire Che Alcuni sanno Altri non sanno Che ci sono Molti Molti segreti Ci sono molti segreti Insomma Che I protagonisti Non sanno E quindi Tu vai a Scoprire Insieme ai protagonisti Delle verità Nascoste Sul passato Di Tante persone Che magari Alcuni personaggi Come nella realtà Sembrano Buoni E in realtà Non sono poi così Buoni E alcuni personaggi Che magari Dall'aspetto Dalle azioni Sembrano I cattivi Ma poi dopo Andando indietro Nel tempo E vedendo Come è diventata Perché è diventata così Quella persona lì Dice ma Forse quello lì è il buono Cioè Capito In realtà Magari quelli che sembrano Cattivi Sono buoni Un po' come nella realtà Che le apparenze Sempre Spesso Non sempre Spesso ingannano E poi lì poi Dipende anche dai punti di vista Ovviamente Perché quello che per me Può essere il buono Per te Può essere il cattivo Eccetera eccetera Anche Robin Hood Rubava i ricchi Per dare ai poveri Quindi Sembra Una Una brava persona Però Dal punto di vista Dei poveri Dal punto di vista Dei ricchi È un ladro Quindi Non è una brava persona Quindi per dirti Era un esempio Per farti capire Cosa intendo Quando parlo Di punto di vista Perché Noi possiamo anche dire Che il bene e il male Sono due cose distinte Però esiste sempre Il punto di vista Personale E E gli cambiano Tante cose Di base Per esempio Uccidere È Una cosa cattiva Ma se Uccido perché mi sto Difendendo E Per sopravvivere Una persona Mi accreditisce E mi fa del male E io Per sopravvivere Per salvarmi la uccido È sempre Pagliato È sempre male Ecco Queste cose qua Intendo Ecco Dipende dal punto di vista E anche dalla situazione Da tante cose Ecco Quindi per quello È sempre giusto Eh Farsi un parere proprio E E anche per quello Mi piace anche sapere I pareri degli altri Ma vabbè Lasciando a perdere Tutto questo discorso Che è troppo grande Tornando a Fallout Ci sono Diversi Protagonisti Ecco Vediamo La vicenda Vediamo le vite Di diverse persone Protagoniste Possiamo Chiamarle così Potremmo chiamarle Protagoniste C'è una ragazza Fortunata Perché È Cresciuta In questo bunker In questo vault E quindi Vediamo le vicende Che girano attorno Ai vault E acquista Questo personaggio Protagonista Poi c'è Un Ragazzo Che è una sorta di militare Orfano Che vive Insieme ad altri militari Eccetera eccetera E lì è un'altra storia Che poi ovviamente Si intrecciano Questi personaggi Queste storie Si interaggiano Tra di loro E poi c'è Un personaggione Che è Penso Forse il mio preferito Penso sia il preferito Di tutti Perché è troppo bello Un personaggione Che non so neanche dire Perché chi l'ha visto Ora ha capito E non voglio fare spoiler E Insomma Diciamo che c'è Ci sono questi Sopravvissuti In questi vault In questi bunker E poi Ci sono In realtà Anche Dei Sopravvissuti Anche sulla terra Perché Quelli dei vault Pensano Di essere Gli unici Sopravvissuti C'è chi è Sopravvissuto Mutando E Sopravvivendo Come poteva E si è creata Una nuova Si crea Una nuova Comunità Con nuove regole Tipo Non esistono più soldi Ma si scambiano Quei tappi Di bottiglia Diventa una nuova munita E Non ci sono più leggi Non esiste più una società Cioè Diventa tipo far west Alla fine Ecco Diciamo Perché vince il più forte Ecco La legge del più forte E Non c'è Insomma È da vedere Secondo me è molto bello Non è horror Credo avventura Non lo so che genere sia Fantasy Penso E Un'avventura fantasy Forse Non ci fai Non lo so Comunque È bello 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 Guardalo I personaggi sono molto belli E L'armatura poi L'armatura poi Con l'armatura là È bellissima Non lo spoiler Niente I cavalieri Hanno un'armatura bellissima E Veramente Mi è piaciuto tanto Anche la storia Bella Poi sicuramente Chi ha giocato al videogioco Conosceva già la storia Penso Non so adesso Bene o male Però insomma Molto ben fatto Da mio punto di vista E adesso ho iniziato Una nuova serie Che è coreana E Subprime E adesso con calma Perché sono È una stagione sola Però sono 16 episodi Da tipo Un'ora Episodio Quindi ci metterò una vita A guardarla E L'ho scelto perché La storia Mi è sembrata molto Originale E Strampalata Come fanno loro E Praticamente C'è questa Il titolo è Vuoi sposare mio marito? C'è il titolo Fa ridere È tipo Commedia romantica Però Un po' inquietante Così Perché Loro fanno Sempre queste storie strane E Sembra un live action quasi Perché Perché hanno Fanno delle scene con Dei rallenti O Dei Degli audio Sonori Stupidi È bellissimo Già ho visto tre puntate Tre episodi Mi pare E già Volavo In pratica c'è la protagonista Che soffre Ha già quarant'anni Una quarantina d'anni Mi pare Ed è malata Sta facendo la chemio E Scopre Che La Migliore Non è spoiler Perché c'è proprio la trama principale Cioè Le prime tre frasi Sono quelle perché tutto nella prima puntata Subito ai primi dieci minuti Perché dopo gira tutto intorno a quello E scopre che La migliore amica Che era tutta tipo Non è un'unica amica che aveva E super appiccicosa Che la chiama l'altra metà La migliore amica Aveva una relazione con suo marito E Tra l'altro io leggendo la trama Avevo immaginato un'altra cosa Invece è ancora Più ridicola Di quello che è E per quello l'ho adorato E Praticamente appunto Scopre che Il marito la tradisce con la sua migliore amica E la migliore amica la tradisce con il suo marito Perché è un tradimento doppio E Lui aveva fatto Appena visto che si era ammalata Aveva fatto Un' Un'assicurazione sulla vita Per Rubarle tutti i soldi In più lui è Uno schifo di uomo Perché Con la madre La mandavano a lavorare Anche se era ammalata E lui si era licenziato Per farsi mantenere Insomma Te lo fanno bene odiare Ti fanno odiare sia lei La La migliore amica che lui Quindi Poi Lei muore Per colpa di loro due Non ti spoilerò come Vedrai E nella trama c'è scritto Che lei poi Torna in vita Dieci anni prima Di ammalarsi Che fosse successo Tutta quella cosa E si vendi Torna indietro In vita Per vendicarsi Quando ho letto così Pensavo Che tornasse E fare un po' di pulizia Quando leggi così Pensi È tornata indietro E ha ucciso tutti Invece no Ancora più divertente Torna indietro Per fare in modo Che La migliore amica Si sposi con lui Che tutti pensano Che lui sia un bravo ragazzo Invece è proprio una merda È una persona tipo Più tossica Che può immaginare Lui e lui è E quindi vuole incastrare La migliore amica Anzi Ti volevi Perché lei si prendeva solo La parte Bella diciamo Di lui E invece vuole incastrarla Nella sua vita Passata Perché si accorta che Le cose Succedevano comunque Perché Lei si ricordava tutto quello Che era successo Io non potrei mai fare una cosa del genere Anche non mi ricordo neanche cosa ho fatto ieri Però Lei si ricordava dieci anni fa Le giornate esattamente Cosa Cosa era successo Eccetera eccetera E quindi Si accorta che Le cose comunque succedevano Però Se le faceva succedere A Un'altra persona Diciamo che Lei si Si salvava Ecco E quindi Vuole far sposare La sua Migliore amica Con il suo Che all'epoca Era il suo fidanzato Il suo marito Insomma Per incastrare Lei in quella vita Orribile Che dopo lei Si sarebbe ammalata E Avrebbe avuto Uno che Voleva farsi mantenere Un nulla facente Eccetera eccetera E Quindi Diventa divertentissimo Questo Succedono tutti i colori In più Si mischia anche Che Si scopre Che lei veniva pulizzata Le superiori E C'è una cena Di Delle superiori Con Il loro trentenni E Al quale lei era stata Pulizzata Stai presa in giro E rivive quella situazione Però Trasformandola a suo favore Perché Si ricordava tutte le cose Che erano successe E Quindi Riesci a cambiare tutto C'è Bellissimo Bellissimo Quindi Scopre delle cose Del suo passato Che lei pian piano Sta sistemando Oltre al fatto Della Della Migliore amica Del marito Sistema Pian piano Anche la sua vita Il suo passato Bellissimo Poi ci succedono Delle cose Troppo Da Sembra di guardare Un anime Però Un live action Sembra Bellissimo Veramente Divertente Leggero Da vedere E Penso che poi Ne guarderò altri Coreani Perché Se sono tutti così Sono proprio carini Le ragazze Le donne poi le attrici Sono tutte carine Tutte Poi c'è La classica scena Di La sfigata Che diventa bella Che io adoro Tipo Dire fare baciare Il bruttonato Occolo Quelli così Che c'è La scena classica Dei film americani C'è anche Nei film coreani Sono delle serie Bella Mi piacciono Quelle cose Non avrei fatto Una serie Altrimenti Su smr Tra Che proprio è quello Comunque Vabbè E Queste sono le serie Che ho visto Questa è la serie Che sto guardando Spero di Averti Fatto rilassare Come sempre Ti auguro Buonanotte Buon relax Ciao Creatura